Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha sorpreso tutti, nonostante le voci sulla crisi circolassero da giorni. Le immagini condivise sui social facevano ancora pensare a una coppia unita, ma i rumors continuavano a circolare, alimentando dubbi tra i follower. Alice Campello ha risposto alle critiche assicurando che l'amore tra loro esiste ancora, ma che avevano bisogno di distanza. Ha ammesso di aver annunciato la separazione troppo presto, lasciando aperta la possibilità di una riconciliazione. Alvaro Morata ha smentito le voci su un tradimento, giurando che non c'è nessuna terza persona coinvolta. Ha risposto indirettamente alle insinuazioni di una giornalista spagnola riguardo a presunte foto compromettenti con un'altra donna. Tra le ipotesi sulla fine della relazione ci sono cause professionali e burnout, in linea con quanto dichiarato da Alice Campello. La donna ha parlato di crisi dovute a depressioni, momenti di forte tensione durante l'europeo e la pressione dei media. Nonostante tutto i far in un possibile ritorno di vita.